Gli sforzi dell'amministrazione comunale sono quelli di rendere praticabili una serie di strutture che da tempo versano in condizioni non buone. Questo campo è stato ristrutturato con la spesa di ben 70 mila euro e va affidato come già lo era alla parrocchia di Buesanto Stacchio. Sono in corso i lavori per un campo lo stesso importante come questo di Vipe Cariello che verrà affidato alla parrocchia di Santa Margherita. Gli sforzi dell'amministrazione in questi tempi di crisi sono tanti. Domani dovrei incontrarmi con il Presidente Pastore per cercare di risolvere il problema di questo altro campo adiacente che è di dimensioni molto più grandi dove possono essere svolte anche le partite di prima categoria. I lavori di Malvolpe sono in fase di va appalto la gara, l'amministrazione spenderà un milione di euro, sarà sistemato il campo di dimensioni regolamentari per la Serie C, verrà affidato alla Salernitana, bisognerà fare un'apposita convenzione e cercheremo di avere anche degli usi che vanno anche al di là della Salernitana. Sarà fatta una tribunetta per 200 spettatori, quindi potranno seguire i nostri tifosi gli vallenamenti della Salernitana senza girare, senza vagabondare per i vari cambi della periferia come è stato fatto tuttora.